Buonasera, buonasera, buonasera Che meraviglia, complimenti No, complimenti per il vestito, complimenti per l'abito Bellissimo, volete Voilà, voilà, perfetto No, dovete ritornare di là Pronti per lanciare i nomi assolutamente da non perdere Sono otto talenti, uno più bravo dell'altro Iniziamo con... Rosa ben in casa Amica di Ivan Zazzo Chi è il primo? Chi avrà il numero uno? E chi il numero due? Scopriamo